Condanne in primo grado per 204.000 euro, recuperata la somma record di 1.263.000 euro. Numeri elencati con orgoglio dal Presidente della Corte dei Conti del Molise, Tommaso Vicignone, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 che si è svolta questa mattina presso la Sala della Costituzione della Provincia alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Per due anni consecutivi abbiamo avuto un voto di organico. Per poter organizzare le udienze, per poter celebrare le udienze, abbiamo dovuto far ricorso all'integrazione del collegio mediante i nostri colleghi del controllo. Con tutto ciò abbiamo realizzato più di 30 sentenze in più dell'anno scorso. Numeri importanti conseguiti nel 2018 nonostante l'essigo organico a disposizione. Abbiamo pronunciato 18 sentenze di condanna. L'importante è quello di farsi vedere sul territorio, di far sentire la propria presenza e non tanto irrogare sanzioni, irrogare risarcimenti, quanto farsi vedere sul territorio, farsi sentire sul territorio e cercare di corroborare quella esigenza di giustizia, di ben comportarsi che è insida in ognuno di noi. Nella sua relazione il procuratore regionale Stefano Grossi ha focalizzato l'attenzione sul settore sanità e sui danni derivanti dall'elargizione di emolumenti accessori, retribuzione di risultato, lavoro straordinario, posizione organizzativa al personale della pubblica amministrazione. Le indagini hanno acclarato un danno pari a 3.791.000 euro da imputarsi alla triade apicale dell'ASREM in carica nell'anno 2011. Errata e illegittima corrisponzione della retribuzione accessoria di tutto il personale sanitario che ha portato a contestare 3.700.000 euro di risultato mal distribuita o quantomeno distribuito a pioggia in spregio alle norme che invece prevedono una corrisponzione sulla base di risultati raggiunti e degli obiettivi raggiunti. Numerosi i giudizi riguardanti l'indebita percezione di contributi pubblici POR FESER 2007-2013 e l'erogazione di finanziamenti regionali a società partecipate. La procura ha continuato ad interessarsi delle spese erogate ai gruppi consigliari negli anni 2007-2011 e delle partecipate in tutto 18. Su tre di queste la regione punterebbe, 4 sarebbero in fase di dismissione, 11 oggetto di revisione. Ho recuperato, e sto parlando dell'amministrazione di Molise Acque, più di un milione di euro entrata per la finanza pubblica che è considerevole anche relativamente alla realtà molisana che è piccolina. Noi ci siamo sempre aggirati intorno ai recuperi di 350.000 euro. Quest'anno dire che abbiamo recuperato per le finanze statali oltre un milione di euro è una bella soddisfazione.